Ha entusiasmato la platea l'onorevole Fitto che a potenza ha partecipato al congresso di Forza Italia. È stata anche l'occasione per ringraziare gli oltre 11.000 lucani che hanno espresso una preferenza nei suoi confronti alle elezioni europee, dove Fitto era capolista di Forza Italia nella circoscrizione meridionale. Ma no, qui c'è un rapporto che innanzitutto mi porta oggi qui a ringraziare gli elettori. Qui in Basilicato ho avuto un riscontro molto importante, positivo, che penso sia per quanto mi riguarda uno stimolo a fare bene nel nuovo impegno di Parlamento europeo per questo territorio. Quindi oggi sono qui per ringraziare e per proseguire questa nostra riflessione che stiamo portando avanti all'interno del partito e della nostra coalizione. Io, come noto, non cerco in alcun modo le polemiche, sto esclusivamente lavorando per poter contribuire a un dibattito utile e positivo per i partiti. Nel corso dell'Assemblea regionale è stato ribadito l'interesse del partito a costruire uno spazio politico in cui i lucani si possano sempre più riconoscere. Si è partiti dal ricordo delle parole di Berlusconi, che va dicendo a gran voce di portare avanti un lavoro di radicamento del movimento sul territorio. Un radicamento che ovviamente deve partire dal basso e che deve consentire a tutti di entrarne a far parte, soprattutto ai tanti volti nuovi che da tempo chiedono di entrare. Non si è perso di vista un altro obiettivo importante, la classe dirigente del futuro e del presente, va scelta attraverso le modalità in cui abbia peso e valore il consenso della base. Di confrontarsi comprendendo le ragioni del risultato elettorale del 25 di maggio e al tempo stesso discutere innanzitutto dei programmi, che sono l'elemento principale per poter aggregare, e poi stabilire anche i metodi di selezione della classe dirigente. Mi sembra che oramai il dato delle primarie di coalizione siano un dato già acquisito. Sul resto poi magari proseguiremo questo nostro dibattito che stiamo portando avanti. Non più dunque su criteri personalistici e di vicinanza a questo o quel leader, ma in base esclusivamente ai criteri di meritocrazia e capacità nello svolgere il proprio ruolo politico al servizio degli altri. Programmi e qualità della classe dirigente dovranno essere dunque gli elementi fondanti per consentire a Forza Italia di riconquistare la fiducia di una vasta area elettorale, che anche nelle ultime consultazioni ha scelto l'assenzione, piuttosto che una partecipazione attiva.